Comunque si giudichi la vicenda, un dato è certo. I militari, i marinai italiani operavano in acqua internazionali e debbono essere giudicati in Italia. Noi invitiamo tutti, al di sopra delle parti, le amministrazioni comunali, le associazioni, i partiti, ad esporre questo manifesto, come è avvenuto in altri casi, per dare solidarietà alle forze armate, ai marinai, alle loro famiglie e chiedere che siano giudicati in Italia. Salviamo i nostri Marò.